Un grande piacere introdurre il prossimo ospite che ha scritto un'autobiografia, Filippa a te l'onore. E' uno degli attori comici più amati della televisione, del teatro e del cinema italiani. Da dopodomani uscirà per PM la sua autobiografia, Confesso, vita semiseria di un comico malinconico. E' con noi Enrico Montesano! Abbiamo scelto Rugantino alla fine. Grazie. E' sempre un piacere sentire una musica di Trovaioli, no? Accidenti. Per grande maestro. Poi ci racconterai anche dell'incontro con Garineggio e Giovannini con il Rugantino. Ma sei elegante, ammazza. Ti ringrazio. Ho messo una sciarpettina. Ma è molto aristocratico. Anche per coprire un pochino la magagna, capisci? Ah, sì. No, invece però è da un tono molto... Ma io sei scherpe. Sono quelli che si può fare anche... Sì, si può fare anche un po'... Un po' da tip-tap, insomma. Un pochino. No, scherziamo. Allora, bentornata a Milano intanto da una città che tu hai vissuto tantissimo, dove hai lavorato tanto. Nel libro, infatti, lo confesso... Eccolo qua, aspetta. Confesso. PM esce dopo domani. Eccolo qua. Sì, PM. Sono stati carini. Mi hanno chiesto questa cosa anche attraverso un amico, Stefano Genovese. Vita a semissere di un comico malinconico. Sì, io poi ho aggiunto, liberamente tratta dalla mia vita, un'autobiografia... Se te lo sei detto da solo. Sì, perché non è che proprio so, fedele. Hai capito? No, dicevo che nel libro, lo dico, che Milano è la mia città padre. Sì, Roma è la città madre. Perché Roma è la città madre. E mi ricordo che dopo che facevamo con Pietro Garinei, bravo... Come no? Mi ricordo che venne Pietro Garinei e mi disse, Enrico, molto serio, adesso dobbiamo andare a Milano. Come dire? E lì devi vincere la battaglia. Però devo dire che fui accolto molto bene. E al Teatro Lirico, poi vennero degli amici miei milanesi, mi dissero, mi detterò un quadruccio che ancora conservo. Grazie al nome dei centomila milanesi che sono venuti a vederti. Un trionfo, fu un trionfo, bravo. Mi andò molto bene. In una libreria, quando andai a comprare un libro, un signore mi riconobbe, un signore milanese, parliamo di qualche anno fa, eh? Sì. Negli anni Ottanta, mi dice, uè Montesano, bravo questo qui, eh? Bravo. Pescia, da solo in Pagoscenico tre ore, lavoratore, eh? A cottimo. Allora, vorrei vedere insieme a voi queste brevi ma intense immagini di Enrico Montesano, così, per divertirci tutti insieme a lui. Guardiamole. Chi è? Perché chi vuole essere lieto lo sia, presenta un signore che è tutta allegria, Enrico Montesano. Immettete che mi presenti? Sono tutti i cagati e questa ve la racconto, ve la racconto questa qua perché ne vai la pina, ne vai la pina. Mi fai male? No, sei bello, fratelli, che mi piacciono tutte le loro. Io, Rugantino, che quando con una donna ci sono stato, l'ho sempre ricontato particolareggiato. pensionatevi di tutto il mondo unitevi e poi finalmente c'è il dito alla break e come lo punti in faccia al pubblico già sei in atmosfera mi chiedi signore e signori l'ospite di questa settimana è io ho scoperto che hai avuto anche un nome d'arte non lo sapevo ma un nome impensabile ma non so perché all'epoca andava di moda e mi chiamarono Henry Monzano io volevo perdere la S da sconosciuto diventare conosciuto invece si persi il tè Henry ma perché Henry? non lo so a te lo chiedevo non lo so io infatti ho detto ma posso cambiare sto nome? dice ma che vuoi? è il mio all'epoca si usava quando poi si facevano queste famose feste patronali sai questa è una grande scuola le processioni le processioni bellissime sì sì è vero quando noi c'era questo impresario che si chiamava Carminio che mi voleva bene mi diceva Enrico andiamo a fare stasera qua vicino saranno sette tre quattro cinquecento chilometri ma tre quattro cinque Carminio ma qua vicino perché non c'erano le autostrade noi arrivavamo al momento in cui proprio c'era la processione il santo patrono usciva dalla chiesa e c'erano tutti i paesani che seguivano la processione era stupenda perché prima c'erano i chierichetti poi il sacerdote che usciva con la croce grande così poi dietro c'era il vescovo sotto al tendalino con lo stensorio poi usciva il santo un po' travallante è bellissimo questi santi improbabili capito questo teneva un segno distintivo della sua specializzazione tra le dita era una pallina era santurologo era un calcolo allora tu lo pregavi e lui ti liberava poi appresso le piedonne di là racconto un po' questa cosa delle piedonne che cantano e ci mettono mezz'ora per fare due metri perché non mi devo alzare un attimo perché non camminano dritto per dritto dietro al santo loro camminano un po' si mettono così e vanno un po' di sguincio così di là e cantano angio festevole coro ai tuoi piedi e c'è poi parlano inframenzano con i commenti oh santa hai visto Giuseppina si è fatta la permanente quando è brutta e ci fanno i commenti insomma era un mondo guarda bello le feste del santo padrono padronali alle volte poi venivano personaggi famosi della Rai TV ah vedi chi veniva? una volta quando la festa era ricca il presentatore poteva essere Renato Tagliani quei grandi presentatori Silvio Noto una volta anche Enzo Tortora venne elegantissimo e quindi la festa aveva assumere un toro e beh era più importante senti abbiamo abbiamo parlato di Milano prima io volevo farti vedere un brevissimo Rwm un filmato del tuo esordio televisivo negli studi della fiera di Milano adesso c'è City Life eh alla fiera a Milano no dico adesso c'è City Life City Life che vuol dire? Palazzi ah Palazzi belli eh però se non c'è più la fiera di Milano lì c'è City Life Cemento eh? ah c'è solo cemento no ma no ma anche prima c'era cemento però c'era gli studi della Rai noi c'eravamo affezionati però non c'erano i palazzi era più bassi gli studi io mi ricordo fiera 1 fiera 2 fiera 3 adesso c'era dopo quando noi lo facevamo in un teatrino che domenica amici eh quello lì che domenica amici 1968 il tuo esordio televisivo negli studi Rai di Milano com'è andata la settimana? Napocalisse un'altra volta ma perché? sì siccome io sono stato chiamato a sono stato chiamato qui a Milano no? alla tv sì e invece io abito a Roma e allora? allora un amico mio mi ha detto e prendi il letto per Milano sì e che vuol dire? sali sul letto a mezzanotte precisa e la mattina dopo alle 8 e 12 stai a Milano fresco e riposato sì per davvero? ma dimmi tu sei oh io so salito sul letto a mezzanotte precisa la mattina dopo aperto l'occhio alle 8 e 12 fresco e riposato è entrata mi madre che ha colazione ma ma che fai a Milano? ma quale Milano figlio mio stiamo a Roma magna magna che te passa uuu che dico io? sì grazie calzetto una volta c'era anche una bellissima ingenuità no? quei testi quel modo di far rire era una trasmissione pensa che andava in onda la domenica pomeriggio prima di novantesimo minuto prima di tutto il calcio sì novantesimo minuto prima dei gol sì novantesimo minuto eh non mi ricordo come si chiama però quindi era tutti si concentravano là aveva ascolti bulgari c'era una rete solo in bianco e nero e la gente i padri volevano vedere i gol e mamme volevano vedere i gol non si poteva fare altro c'è un film e poi tu hai fatto anche tanto tanto cinema no? nella tua carriera era un periodo sì parecchio 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 che è entrato proprio nella storia del cinema italiano che è Febbre da Cavallo eh sì non pensavamo noi quando l'abbiamo fatto che poi avesse nel tempo quando uscì addò bene abbastanza bene ma non poi dopo invece è successa una cosa stranissima quasi un miracolo sì ancora adesso ogni volta vi ripropo di quei classici che vengono visti e rivisti per vedere anche proprio sempre le stesse scene per potersi hanno proprio un gruppo di fedelissimi sì per poterle ritrovare e io volevo mostrarne una per l'appunto da Febbre da Cavallo 1976 276 pensa un po' grazie ma c'è l'aria Rinaldi chi parla? pronto? pronto? eh sì sono la governante del conte di Simone largo arenula 2 vorremmo un etto di carne un etto di carne un etto di carne un chilo che ha me? un chilo un chilo di carne di vitella decente decente modestamente ho della carne che sembra viva per quanto è fresca vuole ripetere il suo indirizzo che mando mio figlio? conte di Simone largo arenula 2 grazie buongiorno ma dimenticavo via a suo figlio il resto di 100.000 lire perchè non abbiamo moneta spicciola in casa via tranquilla sarà fatta grazie A Steno, nelle vecchie sale corse, adesso non ci stanno più, ci sono le sale dove si scommette su tutto. Prima invece non solo quelli che amavano giocare e vedere i cavalli, no? E c'era quello che, con Steno parlavamo con i giocatori e disse a uno, ma tu perché vieni sempre qui a giocare tutte le sere? Gli diceva Steno, ma i soldi che spendi, ma tua moglie non ti dice niente. Gli dice, ha detto tu, gli disse sto romano piccoletto, a me è il substrato coscienziale che mi spinge. Gli dice sta frase che il substrato coscienziale è quello che spinge il giocatore incallito a giocare. Leggendo Confesso di Enrico Montesano poi si imparano delle cose, personalmente non le sapevo, per esempio hai sei figli? Sì, vabbè ma mica... No, ancora due, sono come la famiglia Bradford, siete otto. Sei più due, però sei sono quelli proprio diretti. Però meglio sei figli che sei a vici di garanzia, no? Ma te li ricordi tutti i nomi? Sì, sì, certo. Ah sì, eh? Eh che difficile. Sì, sono Tommaso, Oliver, Laviglia, Mattia, Michele, Enrico e Marco Valera. No, uno sbagliato. Rifacciamo. Perché? No, dico, ci provavo a vedere se... No, Tommaso. No, 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 li sai, li sai. No, no, mi hai fregato, mi hai impegnato, ho detto oddio, avessi sbagliato corso. Poi... In un dubbio me l'hai messo. Poi ho scoperto una cosa, non so se ve lo sapevate, cioè Enrico Montesano è alpinista, cosa che a me piace moltissimo, ma no, ma non solo alpinista... Ieri sera ho visto la puntata che hai fatto, che mi è venuta una voglia, hai fatto venire una voglia. Beh, vai di nuovo, ma no, ma soprattutto alpinista è un modo... non è detta così... Non sono. Beh, sono. Amo a fargli passeggiate e qualche arrampicato. Racconti che nella vita ti è successo una cosa per la quale io avrei dato non sai cosa, cioè lui ha arrampicato con quello che è il mito della mia esistenza, cioè Walter Bonatti. Ma di tutti noi. Che è stato qui tante volte ospite, che era una persona... ogni volta che la ricordo mi commuovo, guarda. E qui tu arrampichi. Walter, hai detto bene, era una persona affascinante prima di tutto, sentirlo raccontare, no, come era carino, come era bello, era proprio bello. Bello dentro, bello fuori, era proprio affascinante. Io feci un film con Rossana Podestà, che era Pane, Burra e Marmellata. Compagna di... Era la compagna di Walter Bonatti. Andai a trovarlo una volta in una casetta che loro avevano all'Argentario. Sì. E Walter mi disse, e Rossana mi dissero, vogliamo andare al mare? Eh, c'è, all'Argentario, c'è. E si misero gli scarponi, da montagna. Ditto, ma come, Anna Marmare? No, perché noi, siccome l'Argentario è una roccia. Poi c'è la roccia a picco sul mare. Loro scendevano con la corda, i ganci, facevano una discesa della roccia fino al bagnasciuga, al mare. E io non si appresse a loro. Poi si toglievano gli scarponi. E le pinne. E ci avevano costume sotto. E così per risalire ci si arrampicava. Poi lui mi porta in una roccia a un bel seno, lo chiamava lui, di granito, di fronte. Dice, guarda, andiamo. Ci divertiamo, ci sgranchiamo un pochetto. Come palestra. Da quel momento mi sono appassionato. Sono andato poi, io sono con gli scogliattoli a Cortina, ho cominciato. La palestra e le Cinque Torri. Ma qui è un vero alpinista. Sì, poi una volta Walter, su mio invito e con una certa insistenza, venne con Rossana e disse andiamo a fare insieme una scalatina. E lui mi portò sul becco di Mezzodì, che è una bellissima montagna che si vede a Cortina. però camminiamo, arriviamo, poi un'oretta a piedi. Lui si mette sotto sta parete e dico, dove andiamo? Lui guarda un vecchio libro d'alpinismo con le pagine staccate. Sai quelli rilegati che si staccano le pagine? Gira e dice, no, andiamo da questa parete qua. Che sono trent'anni che non la fa nessuno. Dico, ci sarà un motivo. Sei sicuro? Io zitto perché sto col più grande esploratore e scalatore del mondo. Quello che ha scalato il K2, voglio dire, che gli dici? Andiamo. Ogni tanto però la via era aperta, come si dice in gergo, e tu lo sai meglio di me, no? Vuol dire che sei andato da quella parte là. Sì, qualcuno già è andato prima di te, però ogni tanto qualche gancio mancava e Walter Bonatti si legava e mi chiamava. Enrico dai, vieni su. Che sai quando il tuo maestro scompare, tu sei solo in quel momento. E la via un po' te la devi cercare da te, anche se sei, come dicevate ieri, in sicurezza. No, come dicevate ieri sera. Quindi arrivavo su, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Siamo arrivati su. Molto bene. Walter mi ha dato la pacca sulla spalla, mi ha dato la mano. Come si fa? In cino. No, io sono quasi svenuto. No, ma muovi il bello. Dobbiamo scendere. Allora lo dice, scendiamo di qua. Però non c'è bisogno della corda doppia. Riscendiamo così. Arriva un temporale. Allora sai, dice, non avere timore, mi dice lui. Se muo dici te, Walter, io... E stavo così. Quando piove in montagna con la roccia, l'acqua entra dentro. Diceva tutto bene? Sì, mi soffa quasi al bidet, Walter, non la faccio più. Hai capito? L'acqua mi entrava dappertutto. Allora, i libri sono utili e piacevoli per chi li legge, ma in questo caso anche per chi li scrive. Nel senso che Enrico Montesano, se vuoi puoi approfittare anche della trasmissione, è un libro utile perché a pagina 191 metti in vendita la tua amata Harley Davidson. Quindi, se tu vuoi fare l'annuncio... Sì, perché ormai col mal di schiena... È vecchia però, è già vent'anni. Quindi vendesi, ah, li devi telefonare, ah? Sì, io gli do il numero 06 844. Passo! Enrico Montesano, grazie. Confesso, PM editore. Alla prossima. Un abbraccio. Ciao. Alla prossima, grazie. Grazie.